L'azione che è scesa in strada, l'epicentro nella zona tra Forlì, Castrocano, Faenza e Forlì Popoli ad una profondità di oltre 28 km e proprio per questa profondità il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo, Toscana, Veneto e Friuli. Ma poi alle 3.32 la violenta scossa che ha avuto come epicentro la provincia dell'Aquila, 5.9 Richter, tutta la popolazione dell'Aquila si è riversata in strada per la paura perché è stata una scossa forte. Adesso abbiamo sentito un collega dall'Aquila, Ugo Cipriani, che ci ha detto in tempo reale quello che sta vedendo, la gente per strada è molto preoccupata, sicuramente nessuno rientrerà nelle abitazioni perché questa volta la scossa è stata davvero forte, l'abbiamo avvertita anche a Roma, è stata avvertita a Pescara, quindi sul versante adriatico della regione Abruzzo, è stata avvertita in provincia di Teramo e quindi un terremoto che ha fatto sentire i suoi effetti in tutta la regione dell'Abruzzo e dell'Azzi.